la mascella volitiva marcello aveva 65 anni 15 più di daniela ma li nascondeva dietro occhiali impenetrabili come due specchi una volta grasso adesso era magro con la fisionomia arcinota di chi nella vita ha sperimentato molto i tendini sporgenti come cavi tesi la mascella volitiva viviamo un tempo di neutralità affettiva ripeteva spesso marcello per ricordare le sue tre mogli e i suoi sei figli ripeteva anche la frase così in alto così in basso con cui i maestri immateriali spiegano come certe caratteristiche strutturali della realtà siano costanti e si replichino su tutti i piani di esistenza adeguandosi alle caratteristiche peculiari dei vari piani grazie Grazie a tutti